Ciao amici, ieri avete visto il video con la storia del maestro indiano che molti anni fa mi ha affidato un'antica tecnica ayurvedica che poteva essere utile nei momenti di crisi come oggi? Se non l'avete fatto potete guardare qua. È interessante, andate a vederlo perché parla di una tecnica che oggi è la risposta a un'esigenza vitale, quella di rigenerarci e toglierci di dosso la tensione, lo stress, l'agitazione di questi terribili giorni anche restando a casa e senza bisogno di incontrare nessuno. Per questo ho deciso di rendere disponibile a tutti questa particolare tecnica che si chiama automassaggio con il mio metodo Ayurvedic Touch tramite un video corso a un prezzo veramente accessibile. È da ieri che sto ricevendo tante domande su questo argomento e ho pensato che fosse utile per tutti riassumerle qui e rispondere in modo collettivo. Ecco le domande. Davvero non serve un massaggiatore per ricevere un massaggio? Ma neanche un estetista? No, puoi usare la tecnica dell'automassaggio Ayurvedic Touch su te stesso, a casa tua, con le tue mani, senza entrare in contatto con nessuno, senza dipendere da nessuno. Adesso e anche dopo questo periodo di quarantena globale. E quali sono i benefici dell'automassaggio Ayurvedic Touch? Oh, sono davvero tanti e scendono in profondità perché l'automassaggio con il metodo Ayurvedic Touch elimina lo stress da corpo e mente, rigenera completamente tutte le energie, riequilibra mente, emozioni, stati d'animo, riattiva la circolazione delle gambe e di tutto il corpo, favorisce il tono muscolare e dei tessuti, nutre la pelle e l'ossigena a fondo, drena i ristagni di liquidi e di tossine, migliora la fisiologia di tutto il corpo e poi risolleva l'umore e lo stato d'animo, cancella la paura, l'ansia, l'agitazione, migliora il sonno e la capacità di rigenerarsi, placa le nevrosi e controlla la fame compulsiva e in più riduce anche la cellulite e schiarisce i capillari delle gambe. Ma non è meglio farsi fare un massaggio da un massaggiatore o una massaggiatrice? A parte il fatto che adesso è impossibile farsi fare un massaggio da un qualsiasi operatore e chissà fino a quando? Comunque, contrariamente a quanto ti fanno credere, è meglio farsi da soli un automassaggio fatto bene con regolarità due o tre volte alla settimana o anche tutti i giorni in questo periodo, visto che abbiamo il tempo di farlo, piuttosto che farsi fare un massaggio da un operatore ogni tanto, quando ti è possibile, senza continuità. Perché la cosa che conta di più sempre e in ogni caso, oltre alla tecnica, è la regolarità. E come funziona questo metodo? È un videocorso che fornisce tutto il materiale necessario in forma di dispense e video per individuare la costituzione ayurvedica con un questionario, preparare l'olio adatto con una miscela di olio vegetale e oli essenziali, allestire l'ambiente con piccoli tocchi in modo da creare un angolo spa di lusso a casa tua con i giusti aromi, le luci, le musichette adatte, eseguire il massaggio seguendo il video, con la sequenza con i movimenti precisi su tutto il corpo che asseconda la fisiologia e attiva le naturali forze di rigenerazione, fare una sessione di rilassamento per tutto il corpo e cancellare tutte le tensioni e i pensieri negativi. È tutto spiegato e mostrato con grande chiarezza. Nel video l'automassaggio si vede molto bene e il rilassamento è guidato dalla mia voce e potrete vedere e ascoltare tutto ogni volta che volete, all'infinito, anche 10 volte al giorno. Ma se mi spalmo una crema idrattante mi massaggio un po', non è la stessa cosa? Assolutamente no! Chiarisco ancora, non si tratta di toccarsi qua e là. L'automassaggio con il metodo rigenerante Ayurvedic Touch è un protocollo serio, studiato, che ti fa eseguire dei movimenti sul corpo con la giusta sequenza, il giusto ordine, la giusta tecnica, il giusto ritmo, il giusto olio adatto a te. Non è come spalmarsi una crema idratante. Questa tecnica l'ho elaborata dalla tradizione indiana che da secoli aiuta le persone a ripristinare l'equilibrio psicofisico con il massaggio, l'automassaggio. E il massaggio ayurvedico non è un semplice massaggio ma una vera e propria strategia di cura naturale e lo scoprirete. Ma posso davvero io imparare a massaggiarmi correttamente? È semplice, con il videocorso sull'automassaggio Ayurvedic Touch basta seguire tutti i passaggi guidati dalla mia voce, non puoi sbagliare. E alla fine c'è anche una meditazione, un rilassamento guidato che completa la sessione e cancella ogni ansia, fissando nel corpo un meraviglioso stato di benessere. Se poi hai ancora qualche domanda potrai scrivermi, farò magari delle live per rispondere a tutti, ma ti assicuro che il video è fatto veramente bene e potrai praticare e stare bene con facilità e subito. E quanto costa come un ciclo infinito di massaggi ayurvedici? In realtà il suo valore è molto maggiore, visto che con un solo videocorso puoi ricevere infiniti automassaggi, ogni volta che vuoi. Normalmente il valore del videocorso è 297 euro. Oggi però, vista la situazione per dare il mio contributo a questo periodo così difficile, il costo di questo preziosissimo videocorso è quello di un singolo massaggio. Così potrai avere sollievo e conforto per sempre a un prezzo assolutamente accessibile, 97 euro. Ma c'è qualche bonus in regalo? Ma certo! Insieme al videocorso riceverai in omaggio questi approfondimenti. Questionario per valutare la tua costituzione ayurvedica. Come preparare gli oli? Quali sono giusti per te? Come rendere la tua casa un angolo spa per il tuo relax. L'audio guida per l'automassaggio, cioè puoi ascoltare anche solo la voce che ti guida. L'audio guida per la tecnica di rilassamento che puoi usare anche da sola. Una vera meditazione per il corpo. E la mappa mentale stampabile che ti guida con le sequenze dell'automassaggio. Chi avrebbe mai immaginato di potersi fare con le proprie mani un massaggio rigenerante e terapeutico? Nessuno! Ma oggi è possibile con il mio metodo Ayurvedic Touch, piacevolissimo. Vi consiglio di dare al corpo e alla mente questa possibilità e dedicarvi del tempo di qualità. Cliccate sul link in descrizione per avere tutto ciò che vi serve per lasciare andare la negatività, l'ansia, la depressione, prima che tutto quello che stiamo vivendo si trasformi in una sindrome da stress post-traumatico. Sono sicura che amerete quello che si può ottenere con questo videocorso. E noi ci vediamo nel prossimo video, anzi nel videocorso, nel frattempo sempre più trendy e sani con la naturopatia e in questo caso la Ayurveda di Simona Vignali, naturalmente. Ciao!